Andrea Timpani ha scritto sul Facebook di Paddy Power Fino a che non ci sarà la moviola in campo, io sul calcio non scommetto Ti ascoltiamo, Andrea Ma fino a che arrivi quel giorno, abbiamo un'altra soluzione L'arbitro degli arbitri E se un altro arbitro non bastasse Ecco che arriva l'ultimo grado di giudizio Paddy Power.it Il nuovo servizio di scommesse e casino online Ti ascoltiamo, Andrea Il gioco evitate i minori Giocare troppo può creare dipendenza patologica Giocare troppo può creare dipendenza